eeeh perchè me chiede perchè mi adoro e perchè non puoi e perchè non puoi e non puoi e perchè non puoi finirsi in me eeeh come cazzo era? ahahah mi ricordo come che qui è bambino è bambino è bambino non la ricordo è bello ma c'era una lampa c'era qui in bagno c'è un po' tempo di tornare con il bagno c'era giù un po' da detto eh eeeh 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 è arrivato babbo da tarde un po' poco vestito silenzio io sono babbo da tarde ho capito niente regali carbone eeeh quella è la befana come sei bello eh ok detto questo buonasera 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 ecco perchè sei andato a prendere la creatura si vuoi dire che babbo natale c'ha le renne non c'ha i cani adesso erico sta per ricevere una scureggia in faccia nooo nuovo vino no nuovo vino si chiama babbo natale ma sei un buon tanto che non le hai aperte caccio ma che piccolo particolare ho pensato non lo hai portato eeeh non hai portato c'è guardo due fulmini che fattiva io era la prima cosa che ho visto e ho detto che sono chiusi comincia con una Enrico incomincia a cambiare per la sua economia no Dico comincia ad aprirne una non Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.